Benvenuti a tutti a questa altra puntata della serie from python import more attraverso il quale cerchiamo di esplorare un pochino le cose anche un po' diverse anche un po' divertenti che si possono fare e ottenere utilizzando l'ambiente python oggi ci occuperemo di questa puntata micro giochi c'è la costruzione di giochi usando dei micro controllori, delle micro schedine che adesso vi racconto essenzialmente useremo delle schede che prendono il nome di microbit sono schedine di questa dimensione quindi vedete la dimensione è un pochino più piccola rispetto a una carta di credito grossomodo alla stessa altezza ma più stretta rispetto al badge del Politecnico che avete adesso le inquadriamo meglio chiaramente per vedere meglio i dettagli e schedine di questo genere che sono programmabili facilmente e anche ovviamente utilizzando python che qua si vede un pochino meglio una scheda relativamente piccola, relativamente semplice da programmare di cui adesso impariamo un pochino a conoscere i dettagli queste schede sono prodotte dalla BBC inglese la società televisiva inglese che ha investito delle sterline nell'educazione e quindi ha fatto produrre e creare questa scheda di cui trovate tutti i dettagli su questo sito microbit.org cosa contiene questa scheda, come è fatta, quali sono le sue caratteristiche allora proviamo a vederla un pochino più in dettaglio ecco questa è una visione ingrandita di questa scheda e fa vedere le schede in primo piano e in particolare i componenti di cui sono composte qui avevamo indicato il fatto che la scheda avesse degli input e degli output in particolare dei led e qua vediamo in una matrice 5x5 questi puntini qua che sembrano bianchi in realtà sono delle luci led che si possono accendere dei led rossi che si possono accendere abbiamo dei bottoni un pulsante che si chiama A messo qui e il pulsante che si chiama B messo qui che possono essere premuti facilmente poi in realtà internamente questa scheda qui la vedo da dietro ci ricorda che ha un processore questo è il processore, la CPU questo invece è un chip aggiuntivo per l'interfaccia per le periferiche ha un pulsante di reset questo è sul retro pulsante per azzerare riavviare di fatto la schedina c'è un connettore USB un mini USB come quello diciamo così dei cellulari attraverso cui possiamo collegarlo al computer programmarlo e anche diciamo di alimentarlo e poi c'è uno spinotto per collegarlo a delle batterie quindi due batterie da un volta e mezzo si alimenta tre volte dopodiché ha tutta una serie di di altri connettori di basso numerati 1, 2, 3 con delle altre diciamo così piccoli connettori più stretti ecco questi servono per collegare degli altri ingressi come sensori esterni oppure delle altre uscite come dei comandi esterni quindi su questa piccola schedina sono integrati oltre che appunto la radio led e bottoni che sono la cosa più visibile c'è una radio bluetooth che permette ai vari microbit di parlarsi tra di loro lo vedremo anche in un esempio c'è un accelerometro che permette al microbit di sentire i movimenti gli spostamenti le inclinazioni c'è una bussola c'è un sensore di luminosità che in realtà sono gli stessi led che possono fungere anche come sensori di luminosità sensori di temperatura e poi tutti i piedini di input output per collegarci altri tipi di dispositivi negli ultimi modelli sono usciti un paio di settimane fa c'è anche la possibilità di generare e ascoltare dei suoni perché hanno anche un microfono e un altoparlante integrati mentre i modelli che vi faccio vedere adesso non ce l'hanno e poi ovviamente c'è il processore come vi dicevo tutte le informazioni le potete trovare su questo sito qua microbit dove racconta chiaramente è fatto molto è pensato molto per i bambini età molto più bassa della vostra e vi dà anche idea dei progetti che si possono fare tra l'altro si può programmare anche con un'interfaccia diciamo così grafica visuale a blocchi drag and drop simile un pochino all'ambiente scratch che probabilmente molti di voi hanno già conosciuto in realtà microbit non è l'unico modo di usare python all'interno di una piccola scheda ci sono varie soluzioni che si basano sul fatto che il linguaggio python è stato portato anche sui microcontrollori di fatto c'è questo micro python che è un porting un trasporto del linguaggio python all'interno di microcontrollori questo è un esempio del sito di micro python che racconta come hanno tradotto il python che conosciamo che gira su pc su un microcontrollore che chiaramente è una cpu con una potenza di calcolo molto più bassa questa è una scheda pyboard che loro propongono per sviluppare delle applicazioni diciamo di controllo semplici o anche educative dei giochi sulla scheda python ma questo è solo l'inizio della punta dell'iceberg perché se andiamo a vedere ad esempio Adafruit che è un noto fornitore di elettronica per hobbysti ha sviluppato una versione personalizzata semplificata del micro python che è chiamato circuit python python per circuiti trovate tutto su questo sito e queste sono solamente le fotografie le miniature di tutti i tipi di scheda su cui questo circuit python si può installare e come si vedete se volete andare sul sito e dare un'occhiata vedete che molti di questi sono proprio pensati per fare dei giochi dei gadget divertirsi un pochino con l'elettronica questo è tutto l'ambiente dei microcontrollori che in particolare appunto da poco supporta python e tornando al nostro microbit della bbc questo signore che si chiama Damien di fatto in un lavoro estivo ha fatto un porting del micro python per poter funzionare sul microbit stesso e quindi vi trovate su questo sito tutta la documentazione ufficiale del micro python e le librerie python che possono girare sopra il microbit e che noi oggi diciamo così guarderemo e inizieremo a conoscere inoltre esiste un altro sito che è un pochino più divulgativo sulle pagine ufficiali del microbit che parla appunto della come usare python sul microbit il microbit normalmente viene usato con il linguaggio blocchi come vi dicevo però è possibile anche trovare delle informazioni qua sulla sua programmazione in python quindi in pratica noi faremo riferimento oggi negli esempi che faremo a questi due siti il primo è un pochino più sul sito microbit è un pochino più divulgativo racconta un po' le cose fa degli esempi un pochino diciamo così più interessanti un po' più spiegati in modo diciamo così semplice mentre invece la documentazione più approfondita la troviamo sul sito di destra che è quello dove c'è proprio la documentazione tecnica vera e propria quindi faremo riferimento a questi due siti il primo per qualche esempio per comprendere un po' meglio le cose di base il secondo per vedere un po' l'elenco delle funzioni un pochino più avanzate ecco come si sviluppa qual è l'ambiente di sviluppo per questi ci sono due modalità principalmente in realtà sono molte di più ma fermiamoci a queste prime due in cui è possibile usare un editor fornito direttamente dalla BBC quindi sul sito di microbit online quindi si può semplicemente aprire il sito questo sito python.microbit.org e cominciare a scrivere un po' come scriviamo su REPL ma con la possibilità di connettersi qui c'è un tastino che si chiama connect e connettersi al microbit e scaricarci sopra il programma questo è comodo perché ci permette in 10 secondi di cominciare a programmare ma dall'altra parte è un pochino scomodo perché non ha nessuna facilità di programmazione quindi non ha la documentazione non ha l'autocompletamento delle funzioni eccetera eccetera allora io per questi esercizi suggerisco di usare un altro ambiente di sviluppo con un nome un po' particolare si chiama mu si installa da questo sito codewidmu è semplicemente un programmino che vi installate sul vostro computer c'è la versione sia per mac che per linux che per che per windows e potete tranquillamente cominciare a scrivere a programmare come vedete da questa animazione c'è c'è tutta la funzionalità a cui siamo abituati di autocompletamento del codice e poi ci sono come vediamo anche dei tasti per poter questa è già la versione di mu che ho già installato su questo computer vedete che c'è un tasto che si chiama flash che esegue il codice dentro direttamente dentro il microbit una volta che sia collegato tramite un cavo usb l'editor mu se lo vediamo qua su questo bottone mod è adatto a essere utilizzato con vari tipi di controllori potremmo addirittura usarlo con python normale al posto di pycharm sarebbe molto più è un ambiente un pochino più semplice più di base però si può usare per programmare normalmente sotto Windows oppure noi lo useremo per programmare sotto microbit ok come come programmiamo come lavoriamo all'interno dell'ambiente microbit beh di fatto tutte le funzioni che ci servono sono in questo modulo che si chiama microbit quindi prima di tutto dovremmo importare il codice e il modulo microbit importiamo per semplicità tutte le funzioni che ci sono e poi dovremo un pochino entrare nella logica di programmazione di un microcontrollore se noi scriviamo un programma su personal computer normalmente il programma parte poi chiede dei dati poi stampa dei risultati poi il programma termina se ho bisogno lo riesco una seconda volta e così via con i microcontrollori non è così il microcontrollore immaginate di avere il microcontrollore che è dentro il vostro forno microonde ecco dal momento in cui attaccate la spina quel microcontrollore fa un compito solo quello di permettervi di impostare il timer e di comandare diciamo così il generatore di microonde e la durata per cui deve essere esposto il cibo basta ha un compito solo questo compito inizia a farlo non appena accendi la corrente e finisce di farlo quando togli la corrente quindi la struttura perché quel processore ha un compito solo non è programmabile non potete farci caricare un programma diverso sul CPU sul microcontrollore del vostro forno microonde allora la logica qui è la stessa noi abbiamo un processore che parte quando lo accendiamo inizia ad eseguire un programma e eseguirà sempre eseguire lo stesso programma continuerà sempre a eseguire lo stesso programma fino a quando non lo scolleghiamo o fino a quando vabbè in questo caso lo possiamo riprogrammare quindi fino a quando non lo riprogrammiamo quindi il cuore di qualunque microcontrollore è un grosso ciclo infinito vedete che c'è un while true qua e true vuol dire che questo ciclo viene eseguito per sempre perché la condizione di esecuzione del ciclo è una condizione che è sempre vera per definizione quindi in pratica noi abbiamo un programma che esegue un ciclo all'infinito per sempre e eventualmente potrebbero eseguire delle istruzioni davanti in testa da eseguire una volta sola come codici di inizializzazione quindi creo certe variabili creo delle liste creo delle strutture dati di appoggio e poi però comincio a eseguire il ciclo che il processore eseguirà fino a quando avrà corrente fino a quando non staccheremo la spina in pratica e qui in questo ciclo lui dovrà controllare tutto ciò che gli capita intorno se ho premuto un bottone se l'ho spostato se la cambiata la temperatura eccetera eccetera in funzione chiaramente dell'applicazione che vogliamo creare il programma più semplice che possiamo scrivere ad esempio è questo poi vedremo un po' le funzioni che vengono usate ad esempio proviamo a leggere il codice poi impariamo un pochino a vedere le funzioni ma è facile da leggere se qui sono detto questo while true quindi dentro il ciclo che immaginate che venga ripetuto sempre all'infinito mille volte al secondo una cosa di questo genere cioè l'esecuzione di questo durerà qualche microsecondo quindi questo ciclo verrà eseguito centinaia di volte al secondo almeno se button A is pressed quindi se il bottone A è premuto display.show image.happy if button B is pressed display.show image.set quindi ogni volta che passa di lì lui controlla se è premuto il bottone A mostra questa immagine sul display se è premuto il bottone B mostra quest'altra immagine sul display proviamo a vederlo dal vivo e proviamo a scrivere direttamente questo programma e vedere come si comporta quindi from microbit importo la libreria microbit while true if button A if button A vedete che c'è l'autocompletamento is pressed se il bottone A se il bottone A è premuto allora display.show image.happy if if button invece c'è premuto il bottone B is pressed allora fai vedere un'immagine triste vediamo cosa succede in questo caso set queste sono delle costanti vedete che siete tutte in maiuscolo sono delle costanti che sono predefinite all'interno della libreria microbit allora a questo punto cosa facciamo colleghiamo il microbit quindi prendiamo il cavo un cavo usb che arriva dal computer dal pc praticamente che è collegato al mio pc e lo attacco al microbit stesso sulla porta usb che c'è dietro così adesso dietro sul retro si accende una spia arancione che indica che lui è alimentato riceve la corrente e lui qua sta eseguendo un primo programma che avevo caricato sopra ma adesso a noi non interessa che programma c'era caricato su questo microbit col tasto torno qua su mu col tasto flash scaricherò questo codice python sul microbit quindi cosa succede? succede che attraverso il cavo usb dal computer viene caricato il programma sul microbit stesso se io lo giro a rovescio nel momento in cui premo flash adesso lo premo vedete che questo led lampeggia un po' di volte e lampeggia durante il trasferimento quando smetti di lampeggiare quindi ritorna arancione fisso significa che il caricamento del programma è terminato quindi adesso questo microbit ha a bordo il programma che abbiamo appena scritto un programma nel quale se io premo il bottone A compare una faccia diciamo così sorridente se invece premo il bottone B prendiamola con il dito da sotto compare una faccia triste quindi a seconda che io premo A, B, A, B posso modificare forse così si vede un po' meglio l'espressione che compare la faccina che compare disegnata sui led del microbit e questo è il programmino più semplice il corrispondente di Hello World fatto però diciamo così su questo microcontroller su questa schedina cosa succede? proviamo a fare un esempio se io premessi contemporaneamente A e B se premo contemporaneamente A e B è un pochino impazzisce perché vedete che continua a commutare tra una faccia e l'altra quella sorridente e quella triste è perché lui esegue le istruzioni così come lo scritte esegue le istruzioni così come lo scritte e quindi se A è premuto fai vedere la faccia felice e poi qualche microsecondo dopo controlla se B è premuto e anche questo è premuto e quindi farà vedere l'immagine è triste sul lato cancellato per sbaglio alcuni caratteri qua e se noi volessimo a questo punto diciamo così complicare vediamo un attimo cos'altro possiamo fare su questo microbit queste sono alcune delle funzioni principali che la libreria microbit ci mette a disposizione quindi abbiamo visto che i bottoni A e i bottoni B si possono leggere in qualunque momento chiedendogli se sono premuti se l'utente li sta premendo oppure sia questo getpress che si chiede che ci dice quante volte sono state premute nel passato rispetto all'ultima volta che l'ho chiamato quindi uno è la pressione attuale al presente e questa è la pressione al passato ci sono tutte le funzioni legate al display show permettono di far vedere un'immagine con una costante simbolica che sono le immagini predefinite oppure fornendole la bitmap sotto forma di stringhe in base 16 se volete approfondirlo chiaramente nella documentazione c'è tutto clear lo cancella set pixel accende un singolo pixel con un certo x è il numero di riga tra 0 e 4 y è il numero di colonna tra 0 e 4 e value è la luminosità tra 0 e 9 in questo caso e se invece vogliamo far vedere un messaggio lo possiamo usare con il metodo scroll perché lo fa scorrere visto che sul display è molto piccolo ci sta solamente un carattere per volta c'è lo scrolling che fa scorrere un messaggio poi abbiamo la lettura della bussola la lettura dell'accelerometro che posso leggere andando a leggere le componenti del vettore accelerazioni lungo le assi x, y e z se il microbit è fermo lui comunque sentirà l'accelerazione di gravità il 9,8 lungo l'asse z se invece lo incliniamo in posizioni diverse l'asse z è quello che attraversa il microbit dall'alto verso il basso l'asse x è quello invece corrispondente alle rotazioni in questo verso l'asse y è quello invece corrispondente alle rotazioni in questo altro verso quindi se io lo inclinassi così tutto verso destra troverei un'accelerazione lungo l'asse x pari totalmente all'accelerazione di gravità positivo in questo parte lo troverei pari all'accelerazione di gravità negativa ovviamente spostandomi lungo x aumenta l'accelerazione lungo x ma diminuisce l'accelerazione lungo z perché z a questo punto si sta postando sempre in modo perpendicolare al piano del circuito elettronico quindi ci vuole un po' di famiglia bisogna prendere un po' di familiarità per riuscire a capire conoscendo l'accelerazione di gravità andando a controllare le x e y e z capire come è orientato nello spazio questo sempre se è fermo se invece lo stiamo muovendo allora chiaramente l'accelerazione che viene sentita dall'acceleramento interno è molto più complicata quindi diventa anche più complesso infatti ci sono già dei metodi predefiniti in questo caso c'è un metodo work gesture che si chiede se c'è stato un certo gesto e microbit è già capace a riconoscere un certo insieme di gesti tipo ad esempio cadi batti scuotilo quindi un movimento di questo genere viene riconosciuto automaticamente e lo possiamo ottenere in questo modo e poi c'è tutta la parte radio che permette di inviare con send e ricevere con receive dei messaggi che sono delle piccole stringhe di testo tra microbit diversi e quindi possiamo fare anche dei giochini a più giocatori bisogna solamente impostare i vari microbit che vogliamo far comunicare con lo stesso canale radio e con lo stesso gruppo di comunicazione il canale radio semplicemente imposta la frequenza e il gruppo invece imposta un numero uguale a tutti i microbit che vogliamo fare lavorare quindi se anche avessimo 10 microbit nella stessa stanza ma ne vogliamo far parlare solamente due a quei due diamo lo stesso numero di gruppo poi come vi dicevo nella documentazione in particolare qua c'è tutto ci sono tutti gli esempi vedete sulla sinistra come posso gestire le immagini e ci fa vedere le immagini che posso creare come posso gestire i bottoni eccetera nella parte di questo sito della microbit diciamo tutto spiegato in modo molto semplice con qualche esempio e invece nel sito di Damien come dire anche qui c'è una spiegazione semplice con l'esempio dei bottoni con qualche esempio in più e poi c'è la parte vedete qua sulla sinistra API reference c'è il riferimento proprio della libreria dove sui bottoni se vado su buttons mi dà il nome degli oggetti i nomi dei metodi con la loro definizione quindi mi dà la definizione vera e propria di che cosa fanno e che parametri servono e che comportamento hanno quindi abbiamo sia la parte introduttiva sia la parte approfondita proviamo a modificare questo piccolo programmino e dire va bene quando l'utente preme A mostra la faccia felice quando l'utente preme B mostra la faccia triste quando l'utente preme entrambi i bottoni allora cancelliamo il display e questa cosa molto semplice ci aiuterà a capire di nuovo uno dei trucchi dei problemi nella programmazione dei microcontrollori semplicemente sarebbe aggiungiamo ci dice il testo queste due cose le fa già il programma aggiungo questa terza se premo entrambi i bottoni cancello il display vabbè allora un bottone premuto so come si scrive button A is pressed and anche il secondo button B is pressed mi chiedo se sono premuti entrambi usando l'operatore and e a questo punto farò un display punto clear semplicemente ho aggiunto una terza funzione rispetto alle due che già era in grado di compiere allora vediamo un po' cosa fa in questo caso faccio il flash quindi salvo vediamo se funziona premo A sorride premo B è triste questo lo faceva già li premo entrambi ecco se li premo entrambi non si cancella sembra che non si cancelli e perché 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 lui poverino fa ciò che gli ho chiesto quindi e poi lo fa in modo rapido veloce quindi se io ho premuto entrambi i bottoni sicuramente ha cancellato il display ma poi subito dopo torna su e vede che A è premuto e quindi fa vedere la faccia felice ma poi tra l'altro vedrà anche che B è premuto e allora farà vedere la faccia triste quindi devo fare attenzione che se entrambi sono premuti io non devo più andare a considerare queste due altre condizioni il problema è che appunto le istruzioni non vengono eseguite una volta solo ma vengono eseguite all'infinito all'interno di un ciclo quindi questa cosa qua io magari la metto in un bel S che fa sì che tutta questa parte venga eseguita solamente se i bottoni non sono entrambi premuti quindi se io vado a modificare adesso vediamo se funziona meglio premo A sorride premo B è triste e li premo entrambi effettivamente si cancella il problema è che cancello quando lascio andare le dita però torno a un simbolo allora in realtà premere contemporaneamente i due bottoni per farlo cancellare sembra funzionare finché li tengo premuti ma quando lascio andare in realtà compare qualcosa o una faccia che sorride o una faccia triste perché? di nuovo perché io quando sollevo le dita in realtà non sto sollevando le dita contemporaneamente io le premo entrambe sono entrambe premute ma quando le lascio o si sollevo leggermente prima il dito sinistro o leggermente prima il dito destro e per quei pochi microsecondi in cui c'è un bottone che ho già sollevato e l'altro che non ho ancora sollevato ci sarà il mio programma che vede che questa condizione è falsa perché non sono più tutti e due premuti ma uno e due premuto e allora quando lascio andare il tasto lui immediatamente lascio andare i due tasti immediatamente lui prende quello dei due che ha premuto che non è ciò che voglio allora un modo potrebbe essere di darmi un po' di tempo permettermi di sollevare sì i due tastini ma sollevarli con un certo con un certo ritardo dammi un po' di tempo se io non mi sollevo esattamente nello stesso microsecondo magari solleverò qualche microsecondo di distanza allora non andare a controllare il bottone A o il bottone B subito dopo che ho lasciato andare i due bottoni premuti dammi un attimo di tempo e poi dopo potrai controllare e chiaramente funzioni funzioni come prima quindi in questo caso potrebbe essere sufficiente aggiungere un'istruzione di slip che insomma mettiamo 50 millisecondi dovrebbe bastare 50 millisecondi è un duecentesimo di secondo no scusate è un ventesimo di secondo quindi un tempo trascurabile però dovrebbe essere sufficiente perché se non sono troppo scoordinato dovrei riuscire a sollevare contemporaneamente le due dita quindi questo slip 50 vediamo adesso se funziona premo A premo B va bene li premo entrambi fin qui funzionava lascio andare per fortuna è rimasto spento quindi premo A premo B premo entrambi lascio andare entrambi e non c'è più quel trucco perché io riesco a sollevarli effettivamente in un tempo che per me è contemporaneo in realtà per il calcolatore è inferiore ai 50 millisecondi se sollevassi lentamente in questo caso ho sollevato troppo lentamente il secondo in questo caso ho sollevato troppo lentamente il primo chiaramente mi compare la faccina come prima quindi dobbiamo tener conto non solamente delle operazioni che dobbiamo fare ma anche del momento in cui le facciamo e questo è una programmazione diciamo così che si dice in tempo reale praticamente dobbiamo pensare anche al tempo di esecuzione delle varie operazioni non solamente alla loro sequenzializzazione e questo è chiaramente un problema in più ma una volta entrati in questa logica che appunto non è le prime volte non è intuitiva crea dei problemi di programmazione in più si possono poi fare delle cose carine io qua ho due esempi guidati cui diciamo così vi racconto molto brevemente ma vi lascio poi la possibilità di svilupparli diciamo così eventualmente per conto vostro ma vi distribuisco poi i sorgenti saranno poi elencati nel commento del video dove si potete scaricare questo esempio io posso ad esempio proporvi di ecco qua di fare un piccolo giochino in cui ci scambiamo dei messaggini segreti diciamo tra due amici e quindi usiamo la funzionalità radio allora lo diviso in due passi in primo passo scegliamo quale messaggio mandare quindi facciamo un piccolo programmino che invii diverse tipi di che permette all'utente di visualizzare diversi tipi di icone ogni volta che premo il tasto A passa a un'icona diversa e poi magari quando scuoto il microbit cancelliamo il display quindi ogni volta che premo comparirà un'icona diversa sullo schermo questo come si può ottenere io qui per brevità ho già caricato la soluzione si può ad esempio utilizzare una pagliato è questo si può utilizzare un array python che contenga i vari messaggi e poi un intero current che mi dice quale messaggio visualizzare in questo momento mostro display.show un message di current quindi fate queste immagini d'altro non sono anche string che vengono messe dentro una lista quindi usiamo le liste come abbiamo già imparato a utilizzare se viene premuto un bottone incremento semplicemente il valore current quindi da 0 diventa 1 da 1 diventa 2 e così via ovviamente devo fare attenzione che dopo l'ultima immagine deve tornare la prima quindi avrò modulo numero di messaggi in modo che quando raggiungo il numero di messaggi ritorno a 0 e poi ovviamente mostrerò questo messaggio in più c'è questo ciclo strano while button A is pressed a che cosa serve? serve ad aspettare che il bottone venga lasciato andare se io premo A ovviamente esegue questa istruzione ma se tengo premuto A magari anche solo per un decimo di secondo ma in un decimo di secondo lui ne fa di giri centinaia di giri allora ogni volta verrebbe eseguito questo e cambiata l'icona velocissimamente sarebbe un vortice di icone che cambia io invece voglio dire premo A lo cambi lascio andare lo ripremo ricambi di nuovo quindi io questo codice che c'è qua la linea 13 la pass è un'istruzione python che non fa nulla però ovviamente quando scrivo un while serve un'istruzione come corpo quindi un corpo che non c'è nulla da fare qua ma aspetto che il bottone venga lasciato andare cioè finché il bottone è premuto stai fermo lì ti intrappolo ti blocco non fa nient'altro quindi io quando premo il bottone cambia l'icona e fino a quando non lascia andare il bottone mi fermo non la cambio ulteriori volte ti impedisco di cambiare vorticosamente aspetto che tu con calma aspetto che tu lasci andare il bottone poi c'è il codice sull'accelerometro come dicevamo prima se c'è un gesto di tipo shake allora cancella il display ma questo l'ho aggiunto semplicemente questo se lo salviamo sul microbit vediamo che abbiamo mostrato la prima immagine ogni volta che premo A cambia c'è il cuore c'è il teschio c'è la croce poi di nuovo uno sorride triste cuore teschio croce e così via quindi premendo A ogni volta e io lo premo lo tengo premuto quando lo lascio andare cambia l'icona se lo premo più volte rapidamente chiaramente cambia rapidamente ma se lo tengo premuto non c'è problema il programma mi aspetta anche se io sono lento col dito il programma aspetta che lo lascio andare e lo ripremo e così via se invece voglio cancellare faccio uno shake quindi un piccolo movimento e l'immagine viene cancellata perché l'accelerometro ha rilevato l'operazione di shake il gesto di scuotimento da questo è facile continuare andare al passo successivo e dire ok una volta che io ho scelto l'icona premendo il tasto B mando quest'icona via radio a un altro microbit un altro microbit su cui ci sarà lo stesso programma identico e che quindi potrà ricevere il messaggio del primo immaginate usare questa cosa qua per copiare gli esami ah no anzi scusate meglio se non ve lo dico e quindi seleziono sempre col tasto A il lavare l'icona poi a un certo punto premo B e quest'icona che ho selezionato verrà mandata all'altro microbit che la riceverà e la visualizzerà questo come avviene e anche qua andiamo a vedere il codice che avevo già preparato ma la parte divertente è crearlo semplicemente quando è premuto il bottone B manda send via radio il valore corrente poi lui ha bisogno di una stringa quindi convertiamo l'interno in stringa ma questo lo sappiamo fare con la funzione STR ovviamente per poter mandare qualcosa via radio ho dovuto configurare la radio su un certo canale e accendere la radio cioè il comando on e off per accendere e spegnere prima di poter trasmettere ovviamente quindi questo è molto semplice quando premo B manda il valore della variabile intera current e e chi lo riceve cosa fa? beh chi lo riceve semplicemente con il metodo receive può ricevere un messaggio quindi io mi chiedo ogni volta siamo sempre dentro lo stesso while mi chiedo ho ricevuto un messaggio il metodo receive può darmi due tipi di valori di ritorno può dirmi non hai ricevuto nessun messaggio quindi viene in questo caso restituito il valore speciale none che sta per nulla in python oppure ho ricevuto un messaggio e che in questo caso è sotto forma di una stringa e allora se è una stringa io questa stringa la posso convertire in numero intero e poi questo numero intero lo posso usare per identizzare il mio il mio valore di messaggio e e mostrarlo poi mostrare poi l'icona corrispondente quindi se ricevo allora se ho ricevuto qualcosa allora lo uso per decidere qual'icona mostrare se invece non ho ricevuto nulla questo none semplicemente ha questa iterazione a questo giro non farò nulla andrò a controllare il bottone A andrò a controllare il bottone B eccetera eccetera e tornerò a controllare la radio di nuovo tra un attimo allora vediamo come funziona questo anche qua facciamo un flash sul sul microbit e e a fianco di questo avevo già precaricato lo stesso programma identico su un altro microbit l'attacco solo qui a un alimentatore quindi questi due microbit hanno lo stesso programma che gira io uso il primo il solito con cui abbiamo lavorato il premere A mi cambia la faccia se io adesso sono sulla X ad esempio premendo B in teoria questo microbit manda via radio all'altro il simbolo corrispondente al B in questo caso sappiamo che current vale 4 e quest'altro ricevendo current uguale 4 dovrà mostrare esattamente quel simbolo poi io posso cambiare prendo il cuore e gli mando il cuore ovviamente questo funziona anche al contrario entrambi hanno lo stesso identico programma sopra quindi anche qua premendo A avrò vari simboli che si vedono e e potrò anche qua premendo B sul secondo il simbolo viene trasmesso automaticamente sul sul primo grazie quindi a questi diciamo a questi giochini con la possibilità di fare di usare la radio possiamo appunto costruire anche delle applicazioni dei giochini che lavorino con più utenti contemporaneamente volevo ancora farvi vedere un altro esempio di che cosa si può fare diciamo così con questo tipo di dispositivi un altro tipo di gioco che io ho chiamato in questo caso Alien Destroyer cioè un gioco in cui si spara agli alieni vi faccio vedere come prima cosa già il gioco finito così lo guardiamo insieme e e poi proviamo a vedere i vari passaggi quindi adesso ho caricato il gioco senza commentare senza farlo vedere più di tanto ecco questo è il giochino che possiamo realizzare allora il puntino in alto sulla prima riga questo qua in alto sono io siete voi la vostra astronave che comandate inclinando da un lato o dall'altro la schedina il microbit quindi man mano che lo inclino lui lo su si sposta se lo inclino a destra si sposta a destra se lo inclino a sinistra si sposta a sinistra il puntino in basso invece questo qua si muove da solo ed è il nostro nemico diciamo così l'alieno che stiamo cercando di distruggere per distruggerlo come facciamo beh premendo il tasto A del microbit spariamo un laser quindi spariamo un raggio laser che ops scusate ho premuto dietro per sbaglio spariamo un raggio laser che può colpire o non colpire il nemico se non lo colpisce come in questo caso compare un simbolo di teschio per dire che abbiamo sbagliato se lo colpisce adesso bisognerebbe riuscire a colpirlo almeno una volta mi dice il punteggio 1 2 eccetera quante volte l'ho colpito mi dà il punteggio quindi io sposto il mio personaggio inclinando il microbit l'alieno si sposta da solo in modo casuale e la pressione del tasto A crea un'animazione di uno spar di un laser e poi il controllo del punteggio questo è il gioco che possiamo realizzare se ci ragioniamo lo si può realizzare con vari passaggi il primo passaggio potrebbe essere semplicemente pilotare l'astronave mia quindi avere un singolo pixel che si sposta quando io inclino un microbit a destra il pixel il led si è sposta di una colonna a destra quando lo inclino a sinistra si sposta di una colonna a sinistra e questo si può ottenere ad esempio con un primo programma che semplicemente è una cosa di questo genere imposto accendo un certo pixel nella riga 0 a una certa colonna posizione la posizione della mia astronave con luminosità massima luminosità 9 questa posizione iniziale viene inizializzata al valore pari a 2 e col valore pari a 2 significa la casellina centrale chiaramente quella del microbit in cui la colonna 0 1 2 3 4 il 2 la colonna centrale fatto questo quindi acceso acceso il pixel vado a controllare se l'utente ha inclinato verso destra o verso sinistra all'accelerometro quindi andando legge l'accelerometro scopro se ho inclinato verso destra o verso sinistra qui uso get x per trovare la componente dell'accelerazione lungo l'asse x se è maggiore di un certo valore vuol dire che l'ho inclinato a destra se è minore di un certo valore negativo allora vuol dire che l'ho inclinato verso sinistra questo valore per tentativi siamo così impostati 15 chiaramente più è piccolo questo valore più sarà sensibile ai movimenti se lo mettete troppo piccolo diventa anche molto difficile da controllare perché anche una piccola inclinazione viene presa per far spostare l'elemento se invece è più grande chiaramente dovreste inclinare maggiormente il microbit prima di poter spostare la vostra astronave e poi se devo spostarmi a sinistra decremento di 1 la posizione ovviamente a patto che la posizione sia positiva qui non sono già sulla prima colonna se invece devo spostarmi a destra mi sposto a destra di una colonna purché non sia già sulla prima colonna stessa in tutto questo ciclo c'è ancora elemento importante che è la pausa perché altrimenti se non fate una pausa quindi non mettete uno slip a un certo punto appena inclinate il microbit il puntino va immediatamente tutto a destra e non riuscite minimamente a controllarlo perché è troppo veloce il tempo di reazione quindi dobbiamo rallentare il tempo di reazione il secondo passaggio è quello dello sparo e quindi nel momento in cui premo il bottone A faccio in modo che l'astronave spari un certo raggio allora questo è puramente un effetto visivo non ha nessun tipo di logica io l'ho provato a ottenere ad esempio con una funzione che ho chiamato raggio che semplicemente mi fa questo effetto visivo poi potete andarvi a studiare il codice ma di fatto vedete che vario la y da 1 a 5 e quindi accendo dei pixel che sono tutti sotto la posizione in cui si trova l'astronave a y che si incrementano a ordinate che si incrementano quindi di fatto sto accendendo tutti i pixel sotto l'astronave uno dopo l'altro in verticale prima li accendo a luminosità massima poi li accendo a metà luminosità e poi li spengo per dare l'effetto del raggio che scende metto anche un minimo di pausa per dare tempo all'occhio umano di vedere il fatto che questi pixel stanno scendendo altrimenti sembrerebbe un flash unico e non si vedrebbe il senso della direzione qui uno si può immaginare diciamo così l'effetto grafico come vuole a me è venuto così già fatto e ha quello effetto che abbiamo abbiamo visto prima qua vedete adesso sapendo come è fatto forse lo si può riconoscere vedete che scende giù sono i pixel che scendono verso il basso con questa distanza di 20 millisecondi adesso qua in telecamera forse non si riesce a vedere il fatto che ci sono due due onde praticamente una di luminosità forte e una di luminosità più debole prima di spegnere il raggio stesso il raggio stesso poi il terzo passaggio è quello di aggiungere nel nostro programmino il terzo passaggio è quello di aggiungere anche il movimento dell'alieno che semplicemente funzionerà esattamente come funzionava la mia astronave nel senso che si incrementa e si decremente in una posizione con la differenza che sta sull'ultima riga e non sulla prima e che il movimento è generato in modo casuale in modo random un modo possibile di implementarlo io l'ho preparato qua e qua innanzitutto mi chiedo ad ogni ad ogni iterazione se devo spostare l'alieno oppure no quindi c'è una certa probabilità che lui si muova e una certa probabilità che rimanga fermo di fatto se decido che si muove deciderò se si muove verso destra oppure verso sinistra e in questo punto in questo caso incremento oppure decremento la posizione dell'alieno stesso se è verso sinistra o se è verso destra se è verso sinistra lo decremento se invece è verso destra lo incrementerò di una unità e questo mi dà il movimento come avevamo già visto prima casuale dell'alieno che è qua sull'ultima riga che decide a un certo punto si sta un po' sta fermo un po' si sposta verso destra un po' sinistra e uscilla così adesso qui sembra che si è affezionato al lato sinistro della scheda ma non c'è nessun motivo particolare semplicemente ogni volta decide se muoversi oppure se spostarsi di una casella destra oppure di una casella sinistra e quindi abbiamo tutti gli elementi che servono tranne l'ultimo che è quello di andare a contare i punti e quindi è semplice perché quando il raggio laser colpisce l'alieno guadagniamo un punto in più quando invece il raggio laser manca alieno azzeriamo il punteggio e quindi mostriamo un'icona per dire che abbiamo sbagliato e poi il punteggio riparte da zero quindi è molto difficile fare punteggi alti perché basta sbagliare una volta e dovete ricominciare da capo questo ovviamente a livello di codice la cosa è la modifica più semplice perché quando l'utente preme il tasto A per lo sparo cosa faccio? beh prima di tutto l'effetto scenico disegno il raggio che scende con la funzione che abbiamo vista prima e poi vado a controllare se la posizione in cui si trovava il mio personaggio è uguale alla posizione in cui si trovava l'alieno allora ho fatto i punti incremento il punteggio e mostro il punteggio che ho fatto altrimenti ho perso tutto quindi a zero il punteggio questo else vuol dire che io ho sparato ma la mia posizione era diversa dalla posizione dell'alieno e quindi ho mancato l'alieno perdo tutti i punti e viene mostrata l'immagine per dire che ho perso la partita e ovviamente ha zero il display e posso ricominciare la partita nuova sempre con le stesse regole quindi questo è un pochino il punto d'arrivo è un programmino di un 50-60 righe però potendolo testare su una schedina elettronica possiamo poi portarlo a spasso giocarci tranquillamente sapendo almeno che è molto semplice ma l'abbiamo costruito diciamo così da zero interamente noi usando direttamente un microcontrollore e quell'hardware se volete fare esperimenti di questo genere come abbiamo visto all'inizio delle slide su internet ci sono centinaia diciamo così di schede diverse a qualche decina di euro ciascuna si possono diciamo così acquistare collegare a vostro computer programmare in python e quindi inventarvi il vostro gioco il videogioco diciamo così da giocare una persona sola da giocare due persone usando la radio oppure avere dei sensori che vadano diciamo così ad automatizzare qualche cosa nella vostra casa nella vostra stanza trovate veramente moltissime anche idee sia di tipo ludico di giochi sia di tipo di automazione sia anche di tipo artistico quindi c'è la musica la possibilità di disegnare eccetera trovate molte ispirazioni su questi siti che abbiamo linkato all'inizio che sono legati al microbin ma anche ad afruit come vi dicevo è un'ampissima offerta di prodotti di tipo educativo usando le conoscenze che abbiamo di python come vedete programmini non troppo complicati bisogna un pochino entrare nella logica di programmare un microcontrollore a ciclo unico al fatto di non avere un debugger qui non ve l'ho fatto vedere per ragioni di tempo ma se io facessi un errore di sintassi qua nel codice il messaggio d'errore me lo scrive qui quindi farebbe uno scrolling molto lento lettera per lettera che mi dice errore alla linea 7 2 punti name error e cose di questo genere è abbastanza frustrante diciamo così sviluppare così è molto più comodo avere il debugger per sviluppare su pc ma quando lavoriamo in un ambiente limitato come sono queste schede chiaramente dobbiamo pagare il prezzo della minore sofisticazione dell'ambiente di sviluppo e quindi maggior difficoltà da parte nostra ma sicuramente diciamo così dà anche una certa soddisfazione poter avere il programma che funziona direttamente su questa scheda va bene spero anche qua di avervi interessato su questo nuovo aspetto della programmazione e arrivederci alla prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti